Un giorno per la nostra città, è questo lo slogan dell'iniziativa lanciata dalla Lega di Serie B che ha invitato tutte le squadre del campionato cadetto a dedicare parte della giornata odierna per realizzare iniziative rivolte ai bambini della città e concordate con le amministrazioni comunali. Scopo dell'iniziativa è quello di restituire allo sport del calcio una dimensione più umana e vicina al territorio. E così Francesco Beltramelli e Federico Bè, rispettivamente allenatore e preparatore del settore giovanile biancoscudato e i giocatori della prima squadra del Padova, Riccardo Improta e Cristiano Bonaiuto, nell'auditorium della scuola elementare Galileo Galilei di Cadoneghe hanno incontrato 150 alunni delle scuole primarie per parlare ai più piccoli di mass media e di sport, nonché delle loro ripercussioni sulla vita quotidiana e sulla cultura. Chiaro è il messaggio trasmesso ai bambini, anche attraverso l'esperienza dei due giocatori. Lo sport, se praticato correttamente, può essere di aiuto per superare alcuni degli aspetti negativi che ci sono nel mondo. Non è facile, soprattutto nel mondo di oggi, riuscire ad arrivare a degli obiettivi, soprattutto quelli che si vogliono. Io personalmente ho fatto tanti sacrifici e ho ringraziato, come ho detto anche prima, i ragazzi. Ho ringraziato sempre la mia famiglia, mi ha aiutato in tutto ed è solo grazie a loro che sono arrivato adesso a vestire anche la maglia del Padova.